Per tornare invece all'attualità, è naturalmente una giornata di gioia quella di ieri per la liberazione di Patrick Zaki, al tempo stesso è una giornata che ci testimonia delle difficoltà delle navigazioni, della navigazione che fanno oggi le democrazie in un mondo sempre più insidiato da autocrazie, cioè chiamiamo le cose con il loro nome, la libertà di Zaki è il risultato di un baratto. Naturalmente io non voglio sminuire il risultato che abbiamo portato a casa e quindi la diplomazia italiana ha fatto un ottimo lavoro, restituire la libertà a una persona che era un prigioniero politico fondamentalmente, è un successo e come tale va valutato. Non riesco a vederlo come una prova della nuova centralità italiana negli equilibri del Mediterraneo, ripeto, intanto perché si è trattato di un baratto a cui abbiamo dovuto sottostare, abbiamo dovuto pagare un prezzo per la libertà di Patrick che è il prezzo non solo del silenzio sul regime ma anche di aiuti a un regime che è chiaramente l'antitesi dei valori in cui noi crediamo. Dopodiché questa è la realtà in cui ci dobbiamo muovere, un Mediterraneo dove abbiamo Tunesia, Egitto e altri paesi che sono tutt'altro diciamo che paesi democratici o dove lo Stato di diritto viene rispettato e il punto nelle relazioni con questi paesi io credo è proprio questo, cioè quello di fare valere però i principi in cui noi crediamo, cioè facciamo pure accordi ma resta fermo il fatto che dobbiamo tenere altissima la guardia sulle questioni dei diritti. Proprio Antonio, proprio nel giorno in cui ricorre il primo anniversario della caduta del governo Mario Draghi mi vengono in mente le sue parole.